Bob Marley, Cool Jubilove, 808, questo è il Crystal History di oggi, di oggi martedì 14 maggio e beh, arriva anche un whatsapp al 3317853555 dicendo grande Bob Marley a San Siro, aleggia ancora la sua presenza dal 1980 eh sì sì, pensate che io per pochi giorni non ho potuto vedere quel concerto perché sono nato pochi giorni dopo quel concerto ma pochi giorni prima del concerto di Bennato quindi sono nato proprio tra il concerto di Bob Marley e quello di Bennato che avveniva appunto nel luglio del 13 giugno e luglio del 1980 diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi, anzi alle nostre ospite di oggi Eva Amos, buongiorno Eva buongiorno Fabio e buongiorno a Giorgia Boli, buongiorno benvenuta buongiorno, grazie per l'invito grazie a voi di averci dato il nostro invito Eva, se sei qui significa che c'è in arrivo una nuova mostra firmata Eva Amos giusto, Art Space questa appunto ritorna in mostra dove, come e con che cosa questa volta? allora domani, cioè il 15 maggio, abbiamo inaugurazione della mostra della quinta edizione di Ambientarti cioè la mostra dedicata alla difesa dell'ambiente quindi già la quinta mostra sulla natura, sulla difesa quinto anno, quinta edizione tema appunto, diciamo, l'ambiente tema sempre molto caldo in questo momento soprattutto anche visto il solo scandamento globale ma come sempre hanno risposto da praticamente ovunque, giusto Eva? esatto, da diverse parti del mondo questa volta abbiamo tantissimi artisti dalla Scandinavia, Svezia, Norvegia, Finlandia e siamo molto contenti e anche da, Giorgia, da dove vieni tu? io sono proprio milanese ecco, e anche giustamente da Milano milanese figlio di Brambilla per cui è proprio un... più sei milanese di in scena non si poteva no perfetto Giorgia, tu appunto sei uno delle quanti artisti 40 artisti 40 artisti che appunto espongono in questa quinta edizione di Ambientarti che cosa porterai? che cosa hai pensato di portare? allora, porto un quadro forse sull'autodifesa dell'ambiente perché il mio quadro si intitola Il vento ci porterà via sull'autodifesa dell'ambiente sì, perché io penso che in qualche maniera la terra, l'ambiente quello che ci circonda troverà sempre la maniera di sopravvivere ma l'uomo è un po' sciocco e in realtà è l'unico che distrugge il suo habitat tu dici la natura è resiliente di suo quindi ce la farà la natura è resiliente di suo e poi la natura non ha stereotipi non deve apparire bella deve essere utile la prova è non so se avete visto le immagini ad esempio della zona di Chernobyl dove ormai non c'è più l'essere umano dove l'essere umano non mette più piede lì la natura nel giro di pochissimi anni si è ripreso tutto quanto senza nessun problema e proprio vive serena vive serena senza di noi come dire esatto esatto cioè questa era la mia idea ed è quello in realtà che dico anche spesso ai miei figli cioè quando si trovano le carte per terra o qualsiasi altra cosa che dico le raccogli per te non le raccogli per la bellezza per l'ordine per la pulizia le raccogli per te ebbè questo è il tema dell'ambiente viene declinato in 40 artisti con tante opere che che opere arrivano ci saranno in mostra appunto domani allora la maggior parte come sempre sono le opere pittoriche c'è la fotografia e ci sono anche delle sculture questa volta abbiamo un po' di scultori quindi molto interessante questa cosa inoltre tutta questa arte abbiamo diversi eventi durante durante i vernissage ci sarà la la performance di danza quindi dello studio di danza l'Etoile di l'area e Chinello ci saranno delle ballerine che pure ballerine questa volta il vernissage il vernissage che avverà domani giusto no? a che ora? dalle ore 5 fino alle 8 e mezzo presso la galleria Bart diciamo bene dove zona sud di Milano giusto no? sì via privata passo Pordo e 7 di città Corvetto vicino Corvetto franzone Prada quella zona lì per intenderci giusto ma allora dopo ci racconti bene invece che cosa succederà appunto davanti al vernissage perché non ci sarà solo le ballerine ci saranno tante altre cose tra cui anche Vamos che sarà lì e tutti gli artisti perché sono sempre tantissimi poi gli artisti che appunto vengono al vernissage a presentarsi e quindi potete anche incontrare gli artisti davanti alle loro opere e anche magari fare qualche domanda andiamo con un po' di musica e poi torniamo appunto qui a parlare della quinta edizione di Ambientarti domani appunto a Bart a Milano Di sole ed azzurro con Giorgia Giorgia che abbiamo qui in studio Giorgia Bolli buongiorno Giorgia non ho la stessa voce non ho la stessa Giorgia avranno notato anche gli ascoltatori ma l'abbiamo messa proprio dedicata a te grazie mille la nostra Giorgia Bolli appunto artista pittrice ma mi dicevi hai avuto anche un passato da illustratrice allora io ho una formazione molto classica perché ho fatto il liceo artistico e tra l'altro l'ho fatto senza saperlo nel miglior liceo artistico sicuramente della Lombardia ma credo anche di un buon pezzo d'Italia che è il San Giuseppe a Monza ok dalle suore bene e poi ho fatto l'istituto europeo del design nel dipartimento proprio di illustrazione una delle poche che lo chiamano l'istituto europeo è l'IED tutti lo tagliano giusto giusto tutti lo tagliano invece giusto ricordiamo che l'istituto europeo del design non ha scuola qualsiasi sembra un'altra cosa sembra un'altra cosa sembra una cosa più seria effettivamente che chiamano semplicemente IED ho iniziato a lavorare quasi subito prima da freelance poi in questo studio che faceva grafica grafica su dei prodotti di largo consumo e poi a un certo punto avevano bisogno di un'altra persona io ho chiamato un'amica che aveva frequentato l'OIED insieme a me e insieme abbiamo formato la modi artistici per anni abbiamo lavorato con tante case editrici con la di Agostini per i cartelloni pubblicitari la maggior parte del nostro lavoro erano le guide mondadori che le facevamo tramite uno studio che le aveva in gestione per cui con tutti gli spaccati le cose di questo se ne occupava principalmente la mia facciata con quei disegni semi tecnici dove spaccava cioè le cace di questa cosa sì pazzesco tra l'altro volte con un'iconografia poverissima per cui mi ricordo una guida della Sardegna che abbiamo fatto da foto in bianco e nero per cui facciate lo spaccato della chiesa lo spaccato del paese la mia socia che è Nadia Viganò che lavora ancora come illustratrice è stata era bravissima precisissima poi con tutto l'acquarello secco per cui con questi pennellini zero uno wow e Giorgia quando è che poi sei passata invece alla pittura e alla tua arte diciamo non più con gli altri ho avuto un primo figlio con il primo figlio è andato tutto liscio ma lo portavo avanti e indietro così il secondo mio piccolo è nato con delle problematiche per cui in realtà anche a un certo punto anche nel mio primo perché il mio primo ha un disturbo dell'apprendimento e quando hai figli con i DSA ti si apre un mondo di guerra per cui terapie non terapie logopedia neuropsichiatria tutte queste robe qui perché poi entri in un circolo che è infinito il lavoro a Milano calava un po' anche perché Milano non è meritocratica su certe cose è una città difficile è una città difficile specialmente nell'ambito artistico perché tutti gli anni sia dall'istituto europeo che da Brera che da architettura arriva chiunque adesso anche dai corsi di domestica per dirti escono centinaia di illustratori io ho avuto la fortuna di poter lavorare bene per una ventina d'anni però la società l'abbiamo chiusa quindi a un certo punto hai deciso di passare proprio la tua arte che è e come possiamo definire la tua arte che cosa in questo caso parliamo di ambiente ma di solito è sempre così hai dei temi la leggo molto a quello che mi succede intorno ok per cui è un'arte emotiva direi arte emotiva arte emotiva fattuale quasi sì anche espressiva a volte anche però anche impressionista io ho una tecnica mia siccome non ho uno spazio dedicato alla pittura io faccio questa cosa che non so se la farà qualcun altro però dipingo molto mentalmente ma dipingo proprio mentalmente cioè mi metto con la tela bianca e dico uso questo colore faccio questo colore meglio quest'altro pennello per cui in realtà quando poi produco l'opera fisica la faccio in pochissimo tempo Eva lo sa perché ha un vernissage sempre alla parte ho fatto un'opera da in un'ora ah l'hai fatta proprio lì al vernissage sì sì però ho studiato alto che vernissage sì nella mia mente sì mi metto proprio come mi metto e la immagino la immagino e la dipingo poi una volta che è finita la tua mente a quel punto poi un attimo tra virgolette un attimo sì è proprio metterlo sulla tela sì Giorgia Bolli Gallery è il tuo profilo Instagram giusto? lo stavo guardando in questo momento Giorgia Bolli Gallery è il mio profilo Instagram lo stavo guardando in questo momento perché appunto chi magari si domandasse questa tecnica qual è che cosa fa appunto qui ci sono i suoi disegni allora per poter fare questa cosa in brevissimo tempo in uno spazio che non è dedicato faccio anche degli acquarelli ma utilizzando sì utilizzando il dual paint che sono degli acquarelli dei pennarelli acquarellabili e poi uso gli acrilici perché gli acrilici si asciugano in un tempo istantaneo non so come dire quasi addirittura mentre non è ancora finito di utilizzarlo questa è la mia tecnica chiaro 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 infatti bene fatevi un giro appunto sul profilo Giorgia Bolli Gallery perché appunto c'è tutti i suoi quadri si può vedere un po' quello che fa pettrice illustratrice e ritrattista così appunto si definisce nella sua ah sì i ritratti mi piacciono un sacco i ritratti è la mia parte vediamoli vediamoli c'è qui anche classica e tradizionale però mi piace prendere quell'attimo in cui le persone guardano fuori dal quadro ah interessante interessante hai fatto anche arte sacra vedo qua ma sì anche adesso onestamente la vita del pittore spazia spazia ma non solo è anche un po' misera se non hai se non hai chi ti mantiene in questo caso io devo ringraziare il mio marito egiziano che su questa cosa mi guarda ogni tanto un po' così ma mi lascia fare ecco meno male meno male che c'è sempre qualcuno beh insomma i primi fan devono essere proprio loro e che possono supportare e sopportare appunto anche le vene artistiche di noi altri però c'è un ragionamento sulle opere sacre quando me le hanno proposte io ho cercato un po' l'iconografia è vero non basta andare a scuola dalle suore perché l'iconografia sacra è infinita e poi ho pensato che mi stavo perdendo in un mare di rifacimenti no? quelli che sembravano un po' bizantini piuttosto che quelli che sembravano sempre un po' rinascimentali e io ho pensato che nel rinascimento chi dipingeva l'arte sacra la dipingeva per quello che era allo stile del momento ah si non aveva dei riferimenti esatto per cui ho dipinto come avrei dipinto l'arte sacra oggi bene interessante appunto fatevi un giro su Georgia Bolly Gallery andiamo avanti con un po' capire bene che cosa succede domani ore mi dicevi inizio ore 17 ore 17 domani appunto il denisage della quinta edizione di Ambientarti allo spazio Abarth via Passo Pordoi via Passo Pordoi sito tutto quello che volete sempre qua in diretta fino alle 9 avanti con Cool Gang The Celebration Max Pezzali discoteca abbandonata invece noi non vi abbiamo abbandonato siamo ancora qui in diretta su Crystal Radio a Good Morning Milano 8 e 34 minuti di oggi martedì 14 maggio grazie mille a Ambrogio che ci ha scritto al 331 78535661 ho sbagliato il numero non mi ricordo più il numero di telefono vabbè fa niente lo sapete voi comunque qual è il numero Celebration il brano che ho dato prima dice Ambrogio dice il brano fu suonato nel 1981 per dare il bentornato a 52 americani liberati dopo essere stati ostaggio in Iran quella storia lì molto interessante dell'ostaggio in Iran pensate agli ostaggi furono 52 diplomatici americani tenuti in ostaggio dal 4 novembre del 79 al 20 gennaio del 81 c'è un film bellissimo che si chiama Argo con Ben Affleck regia di Ben Affleck che racconta benissimo questa storia così intanto un'occhiata non è male una di quelle storie veramente assurde del nostro secolo ma che vanno raccontate vabbè poi ovviamente la solita americanata in certi punti però è quello non possiamo farci niente ahimè però la storia è molto interessante invece torniamo a ambientarti domani 15 maggio il Vernissage alle ore 17 e inizia alle ore 17 finisce poi alle ore 20 30 a Bart via Passo Perdoi giornalistica di Milano tra cui Betto Lodi e la Fondazione Prada che cosa vedremo però? allora quello che ti ho già anticipato prima ci sarà la performance di danza dello studio di danza Le Toalla di Ilaria Echinello e mentre alle ore 19 abbiamo la presentazione ufficiale della mostra con me poi con consulente artistica Elisabetta Roncati che penso che abbiano già conosciuti l'ascoltatore la conosciamo sta qua più di una volta con noi quindi un saluto Elisabetta Roncati sì e abbiamo inoltre partner fantastici terre di oltre Po sembrando divino qua si beve si beve anche ok si beve anche metodo classico mi raccomando ok e poi abbiamo anche l'IPU sezione di Milano che parleranno dell'importanza della della protezione di uccelli protezione di uccelli protezione di uccelli protezione di uccelli appunto beh quando si parla di ambiente si parla ovviamente anche di quello quindi molto interessante appunto che ci sono anche loro a raccontare un po' quello che faranno poi cos'altro abbiamo ci sono premi non premi no qua si vengono fatti c'è una cerimonia di prima azione bravissima di 7 artisti vincitori che non possono non possiamo dire non possiamo dire quindi se venite siete tutti benvenuti e scoprite tutto oltretutto potete anche chiacchierare con gli artisti molti artisti verranno anche dall'estero dalla Svezia Norvegia poi dai cosa abbiamo fammi un Eurovision anche tu dai Grecia Grecia sì allora Regno Unito però non so se verrà l'artista e poi cosa Austria Albania Argentina pure anche dall'oltreoceano arrivano insomma c'è di tutto l'argentino è quello che arriva da più lontano forse no o c'è qualcuno ancora più lontano allora il punto è che lei arriva da più lontano ma in realtà abita a Milano ah va bene sei avvantaggiata negli anni diciamo sei avvantaggiata negli anni appunto per riuscire ad arrivare più vicina e Giorgia tu sarai di domani anche tu ci sarai immagino giusto sì ok e sarà bello poter chiacchierare con te cioè potremmo farti un po' di domande no ti capita spesso magari di chiacchierare davanti alle tue opere quali sono le curiosità che ti chiedono allora sì negli anni ho incontrato diversi artisti con qualcuno ci seguiamo anche su Instagram ci incontriamo spesso tutte le volte è un po' una una festa una festa specialmente con un ragazzino che è cinese che si chiama Ya Wu si chiama credo si dica ma ha partecipato alle hai partecipato alle tue mostre e quello famoso dei quadri gialli ah vedi sì quello che abita a Firenze giusto quello che abita a Firenze ho capito che strano un cinese che abita in Toscana no perché c'è l'accademia no no scusa ah ok scusate è qui a studiare è qui a studiare ci sono tantissimi ragazzi cinesi che studiano lì proprio a Firenze è bene attira tantissimo la città vabbè più poi infatti c'è perché c'è un'accademia dicevate no non è l'accademia lì benissimo ok ma il vostro sudalizio che va avanti da un po' di anni da quanto ho capito conosciamo adesso bisogna fare due calcoli ma 6-7 anni sicuro 6-7 anni sicuro ho visto il profilo appunto di Giorgio il profilo Instagram che insomma saltano fuori poi le mostre di Eva quindi con Giorgio abbiamo fatto anche live painting cioè durante la ti ricordi quando hai fatto magari un anno fa era Dream Arts un Dream Arts ok sì circa un anno fa era un Dream Arts sì forse credo di sì 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 ho fatto un live painting live painting ed era comunque incredibile perché lei era di solito parla tanto comunque molto e lì era in trance sì in trance che lavorava è pazzesco concentratissimo sì 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 perché ho quel momento che è poi concentrato in perché giustamente come dicevi prima c'è una vita piena di impegni piena di cose da fare poi io devo concentrare il momento artistico in un determinato momento e quindi quando arriva arriva non so come dire tra l'altro poi io preferisco gli acrilici perché ho provato a utilizzare l'olio ma l'olio lascia dei tempi mortissimi ok di asciugatura di si allungano i tempi si allungano i tempi e io in quei tempi che sono morti non so come dire dico questa cosa potrei averla fatta così questa cosa non è il mio l'acrilico non ti dà modo di rimorsi non rimorsi con l'acrilico è finito fine è finito fine non mi dà neanche come fare live painting però davanti a un pubblico comunque la gente ti vede mentre stai facendo quella roba lei allora io sono evidente una donna un po' vistosa ma sono vistosa anche nelle idee nel rapportarmi con le persone meglio vistosa che esibizionista però ho sempre un'opinione su qualsiasi cosa mi espongo anche tanto per cui credo si dica una donna intelligente credo si risponda grazie a volte si dice anche ingombrante dipende a chi non è capace di accettare l'intelligenza altrua come ha detto lei mi sono concentrata sapevo quello che dovevo fare e ho avuto anche del tempo per girarmi la mostra andare in giro delle cose ma non so se ho reso l'effetto di quello che avevo in testa non so se la gente ha capito che io stavo dipingendo un attimo o pensavo che andassi un po' a casa questa roba non l'ho chiesta sin dall'inizio non sapevi cosa uscirà fuori cosa come tu sai sono arrivata con il quadro per portarmi avanti sono arrivata con il quadro tra l'altro sul mio profilo c'è quel quadro rosso in piena disperazione ah lo guardo bene sono arrivata con uno fondo rosso e sul fondo rosso non ho neanche fatto un disegno a matita cioè sono partita sono partita proprio avevo in testa di fare questa cosa qui wow è una persona che si teneva in testa giusto sì uscivo da una situazione tra il 2019 e il 2020 che era una situazione familiare molto pesante familiare della mia famiglia di origine molto pesante e in qualche maniera non potevo tanto espormi nel senso che non potevo confidarmi perché le cose stavano assumendo delle connotazioni veramente pesanti che hanno uno strascico tuttora è molto interessante e in qualche maniera molta gente l'ha vissuta come una mia cosa molto superficiale l'allontanamento c'è chi si è allontanato mi sono allontanata io e tutto questo è vissuto in maniera molto superficiale mentre invece il mio momento personale emotivo era un momento molto anche un po' drammatico questo è il risultato è interessante ma appunto che il risultato diventa un'opera d'arte quindi c'è una è proprio terapeutico anche personalmente molto probabilmente ma certo molto per me assolutamente nel senso che poi la famiglia richiede un impegno ed è un impegno in cui non puoi riversare addosso tutta una diarrea emotiva ai figli al marito e alle persone che stanno in tour ma questo fa capire anche come poi certi artisti in realtà fanno arte non e giustamente sia così anzi spero sempre sia così non per chi la vede quell'arte ma per se stessi cioè l'arte è un'espressione personale poi se piace meglio se qualcuno te lo compra meglio ancora ma nel senso è un bisogno quasi a volte non è diciamo che il mio è proprio l'esbordo da quello che riesco a gestire arriva qualcuno dalla Grecia mi dicevi come? abbiamo anche un greco abbiamo una greca un'artista greca un'artista greca l'hai già visto cosa porta? sì certo cosa porta? porta un paesaggio un paesaggio con dove non c'è l'acqua la terra che diciamo brucia un deserto quindi molto attuale te lo chiedo perché la prossima canzone è la canzone che è andata all'Eurovision Song Contest di quest'anno presentata dalla Grecia appunto questa è Zari che appunto ci ascoltiamo qui su Crystal Radio alle 8.44 minuti la Grecia all'Eurovision Song Contest domani invece la Grecia presentata da Sussana Sussana si chiama Sussana benissimo ok allora domani potete incontrare un po' di Grecia se non sapete come attaccare i bottoni di te però non era mai la canzone all'Eurovision come faceva? faceva così se vi state chiedendo come mai non ha vinto la Grecia all'Eurovision beh questa era la canzone no no com'era Eva? insomma no ti piace sì non lo so è un po' tunes 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 però un po' troppo così nel frattempo invece io e Giorgio siamo persi nei ricordi di una gioventù di 90 qua a Milano dove c'era una scena musicale che era pazzesca cioè mi ha tirato fuori dei nomi di gruppi che venivano cioè non erano di Milano ma vivevano la Milano musicale dell'epoca del 99 post di Milano Magretta hai pittura fresca mi ha tirato fuori mi ha tirato fuori delle robe tutto perché stanno parlando di Casino Royale invece che sono milanesissimi e poi insomma è arrivata un po' questa onda qua onda che sicuramente si farà sentire anche nell'arte di oggi speriamo almeno ricordiamo bene cosa succede domani al spazio Abarth in Passo Bordeaux domani ci sarà l'opening della mostra Ambientarti 5 con partecipazione di 40 artisti internazionali che si svolgerà dalle ore 17 fino alle ore 20 30 presso la galleria Bart Milano in via privata Passo Bordeaux 7 quindi vi aspettiamo tutti numerosi potete registrarvi per venire alla mostra tramite la mandandoci una mail artsartspace a chiocerogmail.com e già abbiamo tantissime prenotazioni per domani niente ci sarà anche l'aperitivo offerto dal nostro partner terra di oltrepo ah bene pure anche le bollicine dell'oltrepo Giorgia abbiamo detto che non è la prima mostra che fai con artspace ma come mai questa recidiva come mai sempre allora in realtà è perché come dicevo prima tra gli artisti si crea anche un un rapporto gente che è venuta alle prime mostre qualcuno ed è una maniera anche di incontrarsi ed è anche una maniera non so come dire quando ti trovi bene è facile continuare ad avere dei rapporti io credo rispetto a delle cose che magari come capita agli artisti sono più impersonali come le mostre virtuali oppure le mostre tante mostre mi vengono offerte tante mostre all'estero che io veramente non ho la possibilità di partecipare in realtà cioè sembra una cosa che succede a qualcun altro mentre invece qua sul territorio in qualche maniera ci si incontra anche con le stesse persone per esempio anche con Camelia ci sentiamo ogni tanto ci mettiamo i like e le cose così non è che abbiamo dei rapporti di amicizia stretta però i social servono anche a quello per mantenere dei contatti appunto molto interessante perché insomma diventa a tutti gli effetti quella che ormai noi chiamiamo community che è una bruttissima parola ma in italiano abbiamo una parola ancora migliore che è comunità cioè diventa quasi una comunità la vostra cioè nel senso l'idea di proprio fare di fare comunità di fare gruppo di fare molto bella di creare dei legami per esempio a me piace molto Instagram da questo punto di vista perché in qualche maniera vengo a contatto anche Instagram come tutti i social ha dei logori dei logori degli algoritmi per cui quando inizi poi a guardare gli artisti ti si propongono gli artisti se è usato bene l'algoritmo funziona esatto ed è anche una maniera di mettersi a confronto con pittura di altri di dire guarda io per esempio ho una nemesimia personale che è dipingere l'acqua io non riesco l'acqua e le montagne per me sono è difficile se devo fare una cosa del genere dovrai dipingere almeno mentalmente due anni ecco ti dico questo io non so dipingere assolutamente niente quindi diciamo sei già a buon punto nel senso sei già a buon passo quindi bravo pensa a chi sta peggio di te quando pensi a quelle cose siamo in chiusura allora Eva grazie mille di essere qui con noi grazie Giorgia ricordiamo appunto domani alle 17 spazio ab art ambientarti quinta edizione quinta edizione sì bene bene sappiamo già cosa ci sarà dopo la prossima edizione la prossima edizione la prossima edizione la prossima edizione la prossima mostra sarà dedicata all'acqua quando? tra novembre e dicembre come mai questa lunga pausa? questa lunga pausa diciamolo dai si può dire in radio dai manca poco devo dire dillo tu devo dire io cosa succede ad agosto? eh che ad agosto diventi mamma arriverà arriverà un aiutante diventi mamma di come se l'abbiamo chiamato se non mi ricordo Leonardo Leonardo vabbè se non sa dipingere povero Leonardo cosa gli fasi farà l'ingegnere se non sa no perché Marco non sa l'ingegnere c'è il papà credo che sia l'ingegnere giusto ecco lui non sa dipingere scusa l'ingegnere ne basta uno in famiglia diciamo quando metti al mondo i figli come ho detto a Eva è un'avventura è un'avventura quindi buona avventura può essere anche che la creatività la metta nella scrittura infatti nella musica sicuramente sicuramente di creatività ne vedrà tante ma con Eva che suona dipinge tantissime cose grazie mille Eva ancora auguri congratulazioni non so come si dice in questo caso ci risentiamo ad agosto per farci gli auguri grazie Giorgio ci vediamo domani invece ad Abarth all'apertura della quinta edizione di Ambientarti grazie mille ancora una canzone e poi torniamo qui per i saluti